Delitto e castigo. Parte prima. Capitolo 3. Egli si destò il giorno seguente dopo un sonno agitato che già era tardi. Ma il sonno non l'aveva ristorato. Si destò biglioso, irritabile e rabbioso e guardò con odio la sua cameruccia. Era un minuscolo stambugio, d'un sei passi di larghezza che aveva il più misero degli aspetti con la sua tappezzeria giallognola, polverosa e dappertutto staccata dalle pareti. Ed era bassa a tal segno che una persona un tantino alta vi si sentiva a risagio e le pareva sempre di dover da un momento all'altro dar del capo nel soffitto. La mobilia era adeguata alla stanza. C'erano tre vecchie sedie, non del tutto in buono stato, in un angolo una tavola verniciata, su cui giacevano alcuni quaderni e libri. Già da quanti erano impolverati si vedeva che ormai da un pezzo nessuna mano li toccava. E infine ne è uno sgraziato e grosso sofà, e che per poco non occupava tutta una parete e metà dell'intera stanza in larghezza e un tempo ricoperto di percalle, ma adesso a Brandelli serviva di letto a Raskolnikov. Spesso egli vi dormiva su com'era, senza svestirsi, senza lenzuola coprendosi col suo vecchio frusto cappotto studentesco e con un solo, un piccolo guanciale sotto a cui ficcava tutto quel che aveva di biancheria pulita e in uso, perché il pezzale fosse un po' più alto. Davanti al sofà stava un piccolo tavolino. Era difficile lasciarsi andare di più ed essere più trasandato, ma Raskolnikov ne aveva per fin piacere nel suo presente stato d'animo. Si era risolutamente appartato da tutti, come una tartaruga nel suo guscio e financo il viso della domestica che aveva l'obbligo di fargli servizi ogni tanto si affacciava alla sua stanza e citava in lui l'abile e il convulso. Così suole accadere a certi maniaci che troppo si sono concentrati in qualche pensiero. La sua padrona di casa da due settimane ormai aveva smesso di mandargli il vitto, ed egli non aveva ancora pensato finora di scendere a spiegarsi con lei, pur restando senza desinare. Nastassia, la cuoca e unica donna di servizio della padrona, era lieta da un lato di si fatto umore dell'inquilino e aveva cessato del tutto di rassettare e spazzare la sua stanza. Solo ogni tanto, una volta alla settimana, casualmente, dava mano alla scopa. Fu lei a destarlo ora. «Alzati, perché dormi?» Si mise a gridare al di sopra di lui. «Sono le nove passate. T'ho portato il tè. Lo vuoi un po' di tè? Certo. Sei affamato?» Il pigionale aprì gli occhi, sussultò e riconobbe Nastassia. «Il tè è da parte della padrona, eh?» domandò sollevandosi con lentezza, con aria sofferente sul sofà. «Ma che padrona?» Ella posò davanti a lui la propria teiera, screpolata. «Con te già usato una volta» e vi mise dentro due pezzetti gialli di zucchero. «Ecco, Nastassia, prendi per favore», egli disse dopo aver frugato in saccoccia. Aveva dormito vestito e tratto fuori una manciatina di spiccioli. Scendi e comprami una pagnotta di pan bianco e prendi nella salumeria magari un po' di salame di quello buon mercato. La pagnotta te la porterò sul momento, ma non vuoi invece del salame della minestra di cavoli? Una buona minestra. Ieri. Te l'avevo messa da parte fin da ieri, ma tu venisti tardi. Una buona minestra di cavoli. Quando la minestra fu recata ed egli si accinse a mangiarla, Nastassia sedette accanto a lui sul sofà e si mise a ciarlare. Era una donna di compagnia e molto chiacchierona. «Raskovia Pavlovna vuole lagnarsi di te alla polizia», disse. Egli si aggrondò fortemente alla polizia. «Che cosa vuole? Non paghi e dalla stanza non te ne vai. Si sa quel che vuole». «Diavolo, ancora questa ci mancava», egli mormorò digrignando i denti. «No, questa adesso mi cade a sproposito. E' una stupida», soggiunse a voce alta. «Oggi passerò da lei e le parlerò». «Per stupida è stupida, tal quale come me». «Ma tu, testa fina, perché stai coricato come un sacco e non ti si vede far nulla?» «Prima, dici, andavi a insegnare ai bambini, ma adesso perché non fai nulla?» «Io faccio», pronunciò Raskovnikov malvolentieri e ruvidamente. «Che fai? Un lavoro». «Che lavoro?» «Penso». Egli rispose seriamente, dopo aver tacciuto un po'. Nastassia si rotolò addirittura dalle risa. Era di quelle ridanciane e, quando la facevano ridere, rideva silenziosamente, dondolandosi e squassando tutto il corpo, finché a lei stessa veniva la nausea. «Che denaro ne hai trovato molto?» Pensando, potei infine pronunciare. «Senza stivali non si può dar lezioni ai bambini». «E poi io ci sputo su». «Nel piatto non ci sputare, però». «Le lezioni ai bambini le pagano pochi spiccioli». «Che si fa con le copeche?» E continuò egli di malavoglia, come rispondendo ai propri pensieri. «Tu vorresti di colpo tutto un capitale?» Egli la guardò stranamente. «Sì, tutto un capitale», rispose con fermezza, dopo un po' di silenzio. «Bè, mettilo insieme a poco per volta, se no mi fai paura». «È una cosa terribile assai. Per la pagnotta devo andare o no?» «Come vuoi». «Sì, ho dimenticato. Ieri, sai, in tua assenza ti è giunta una lettera». «Una lettera? A me? Da chi? Da chi? Non so. Tre copeche delle mie ho dato al postino. Le renderai? Eh? Allora portala, per amor di Dio, portala!» gridò tutto agitato rascognico. «Oh signore». Di lì a un minuto comparve la lettera. Proprio così. Era della madre, dalla provincia di Erre. Egli pallidì perfino nel prenderla. Da un pezzo ormai non riceveva lettere. Ma ora anche per qualche altra cosa gli si era stretto improvvisamente il cuore. «Anastasia, vattene per amor di Dio. Ecco le tue tre copeche. Solo, per amor di Dio. Vattene in fretta». La lettera gli tremava nelle mani. Egli non voleva dissigillarla in presenza di lei. Voleva restare solo con quella lettera. Quando Anastasia fu uscita, la portò rapido alle labbra e la baciò. Poi, ancora a lungo, osservò la scrittura dell'indirizzo. La nota è a lui cara scrittura minuta e un po' sghemba di sua madre. Che un tempo gli aveva insegnato a leggere e scrivere. Egli indugiava. Pareva perfino che temesse qualcosa. Infine la dissigillò. Era una lettera grande, massiccia, del peso di due loti. Due ampi fogli di carta da lettere erano coperti di minutissima scrittura. «Caro mio Rodia», scriveva la madre. «Ecco ormai due mesi e più che non ho conversato con te per lettera. Periché io stessa ho sofferto e qualche notte perfino non ho dormito, pensando. Ma di sicuro tu non mi farai colpa di questo mio involontario silenzio. Tu sai come io ti amo. Noi, io e Dunia. Abbiamo solo te. Tu sei tutto per noi. Tutta la speranza. La fede nostra. E che fu di me quando seppi che tu già da alcuni mesi avevi lasciato l'università, non avendo di che mantenerti, e che le lezioni e gli altri tuoi mezzi di vita erano cessati? E come potevo io, e coi miei 120 rubli di pensione all'anno, aiutarti? I 15 rubli che ti inviai quattro mesi fa li avevo presi in prestito, come tu stesso sai, in conto di questa pensione. Dal nostro mercante di qui, Vassili Ivanovich Vakrushin. È un bravo uomo ed era già un buon conoscente di tuo padre. Ma, ceduto a lui il diritto di riscuotere per me la pensione, ho dovuto attendere che il debito fosse stato pagato. E ciò appena adesso è avvenuto, sicché nulla ho potuto mandarti in tutto questo tempo. Ma adesso, lodando Dio, posso pure inviarti dell'altro. Anzi, in generale, noi possiamo ora perfino lodarci della fortuna, cosa che mi ha fretto a comunicarti. E, in primo luogo, indovini tu, caro Rodia, che tua sorella è ormai un mese e mezzo che vive con me e d'ora in poi non ci separeremo più. Lode a te, signore, sono finite le sue torture. Ma ti narrerò tutto per ordine, perché tu sappia com'è andata ogni cosa e quel che fino ad oggi ti abbiamo nascosto. Quando tu mi scrivevi, or sono due mesi, d'aver sentito dire da qualcuno che Dunia molte ne stava passando per l'altrui villania, in casa dei signori Svidrigailov, e mi domandavi precise spiegazioni che potevo io allora scriverti in risposta. Se t'avessi scritto tutta la verità, magari avresti piantato tutto e fosse pure a piedi, saresti venuto da noi. Perché il carattere i sentimenti tuoi li conosco, e tu non avresti lasciato offendere tua sorella. Io stessa ero nella disperazione. Ma che c'era da fare? Io stessa poi non sapeva allora tutta la verità. Ora, il principale ostacolo stava in ciò. Che Dunechka, entrata l'anno scorso in casa loro come governante, aveva preso anticipatamente ben cento rubli, col fatto di una detrazione mensile dallo stipendio, e quindi non era neppure possibile lasciare il posto senza aver regolato il debito. Questa somma, poi, adesso posso spiegarti tutto, impareggiabile Rodia. Lei l'aveva presa più che altro per mandare a te i 60 rubli di cui allora tanto avevi bisogno, e che tu infatti ricevesti da noi l'anno passato. Entrambe allora ti ingannammo. Scrivemmo che erano denari di quelli precedenti di Dunechka, messi da parte, ma così non era. E adesso ti fa nota tutta la verità, perché tutto è ora, per volere di Dio, improvvisamente mutato in meglio, e perché tu sappia come ti ama Dunia e che inestimabile cuore è il suo. Effettivamente, il signor Svidrigailov da principio la trattava in modo assai villano e le faceva varie sgarberie e canzonature a tavola. Ma non voglio qui adentrarmi in tutti questi penosi particolari, per non agitarti in vano, quando ormai tutto è finito. A farla breve, nonostante le buone e degne maniere di Marfa Petrovna, consorte del signor Svidrigailov, e di tutti quelli in casa per Dunechka, era una cosa penosissima, specialmente quando il signor Svidrigailov si trovava, per una sua vecchia abitudine di reggimento, sotto l'influsso di Pacco. Ma che risultò in appresso? Figurati che quello strambo, già da un pezzo, aveva concepito una passione per Dunechka, ma aveva sempre nascosto tutto ciò sotto una vesta di grossolanità e disprezzo per lei. Forse gli stesso si vergognava e sgomentava, vedendosi già anziano e padre di famiglia, di avere così frivole speranze, perciò, appunto, involontariamente si adirava contro Dunia. E forse anche, con la villania dei suoi modi e le derisioni, voleva soltanto celare agli altri tutta la verità. Ma, infine, non si contenne e osò fare a Dune a un'aperta e turpe proposta, promettendo le varie ricompense, per giunta, di piantar tutto e partire con lei per un'altra tenuta, o magari per l'estero. Poi, figurati tutte le sofferenze di lei, lasciare subito il posto era impossibile, non solo a cagione del debito pecuniario, ma anche per riguardo verso Marfa Petrovna, che avrebbe potuto ad un tratto concepire sospetti e, per conseguenza, sarebbe toccato seminare la discordia nella famiglia. E anche per Dunechka sarebbe stato un grosso scandalo. La cosa, ormai, non sarebbe andata liscia. C'erano anche molte ragioni varie, cosicché, prima di sei settimane, Dunia non poteva, in alcun modo, far conto di fuggire via da quella terribile casa. Certo, tu conosci Dunia. Sai com'è intelligente e di fermo carattere. Dunechka, molte cose, può sopportare, fin nei casi più estremi, trovare in sé tanta grandezza d'animo da non perdere la sua fermezza. Perfino a meno scherisse tutto, per non rimescolarmi, eppure sovente ci scambiavamo notizie. Ma sopraggiunse uno scioglimento inaspettato. Marfa Petrovna, impensatamente, sorprese suo marito che supplicava Dunechka in giardino e, avendo capito ogni cosa a rovescio, di tutto accusò lei, pensando che fosse lei la causa di tutto. Avvenne fra loro, lì in giardino, un'orribile scenata. Marfa Petrovna la colpì perfino, non volle ascoltar niente. Gridò per conto suo un'ora intera, alla fine, ordinò di condur subito Dunia da me in città, in un semplice carro di contadini, nel quale furono gettate tutte le cose sue, biancheria, vestiti, tutto come capitò, senza legarle e senza settarle. E a questo punto si scatenò una pioggia torrenziale e Dunia, oltraggiata e disonorata, dovette percorrere col contadino diciassette buone verste in carro scoperto. Pensa ora che potevo io scriverti in una lettera, in risposta alla tua, da me ricevuta due mesi addietro. Potevo scrivere di questo? Io stessa ero disperata. Scriverti la verità non osavo, perché saresti stato molto afflitto, addolorato e indignato. E poi, che avresti potuto fare? Magari ancora rovinarti? E anche Dunechka me lo proibiva. E riempire la lettera di bazzecole e parlar d'altro. Quando nell'anima avevo un tal dolore, io non potevo. Un intero mese circolarono per tutta la nostra città i pettegolezzi intorno a questa storia. Sera, ormai giunti al punto che io e Dunia nemmeno in chiesa potevamo andare a cagione delle occhiate sprezzanti e dei sussurri. E perfino ad alta voce si facevano discorsi in nostra presenza. Tutti i conoscenti si allontanarono da noi. Tutti smisero perfino di salutarci e io seppi con certezza che dei commessi di negozio e alcuni giovani di cancelleria volevano recarci un basso affronto, spalmando di catrame il portone di casa nostra, cosicché i padroni presero a chiedere che sloggiassimo dall'appartamento. Cagione di tutto ciò era Marfa Petrovna, che aveva avuto il tempo di incolpare e infangare Dunia in tutte le famiglie. Lei conosce tutti da noi e in quel mese ogni momento veniva in città. E poiché è un po' chiacchierona e le piace raccontare i suoi affari di famiglia specialmente. Lagnarsi di suo marito con tutti quanti, il che è assai brutto, così propalò tutta la storia, in breve tempo, non solo in città, ma anche per il distretto. Io ammalai, ma Dunechka fu più salda di me. E se tu avessi visto come sopportava ogni cosa e confortava e rincuorava anche me. E lei è un angelo, ma per divina misericordia le nostre pene ebbero fine. Il signor Svidir Gailov tornò in sé e si pentì. Probabilmente, avendo avuto pietà di Dunia, presentò a Marfa Petrovna piene evidenti prove della completa innocenza di Dunechka e precisamente la lettera che Dunia, ancora prima che Marfa Petrovna li sorprendesse in giardino, era stata costretta a scrivere e trasmettergli per evitare le spiegazioni personali e i segreti convegni sui quali egli insisteva e che, dopo la partenza di Dunechka, era rimasta nelle mani del signor Svidir Gailov. In questa lettera, ella, nel modo più irruente e con profonda indignazione, lo rimproverava appunto per l'ignobiltà della sua condotta verso Marfa Petrovna. Gli faceva presente che era padre e capofamiglia, infine, quanto fosse abietto da parte sua attormentare e rendere infelice una ragazza che già era disgraziata e indifesa. Insomma, caro Rodia, questa lettera era scritta in modo così nobile e commovente che io singhiozzavo leggendola e tuttora non posso leggerla senza lacrime. Oltre a ciò, a giustificazione di Dunia, comparvero infine anche le testimonianze dei servi, che avevano visto e sapevano molto più che non supponesse lo stesso signor Svidir Gailov, come suole sempre accadere. Marfa Petrovna ne fu costernata e di bel nuovo uccisa, come la stessa ci confessò. Ma in cambio si convince pienamente dell'innocenza di Tunechka e fin dal giorno di poi, una domenica, venuta direttamente alla cattedrale, pregò in ginocchio e fra le lacrime la Madonna che le desse la forza di reggere a questa nuova prova e di compiere il dover suo. Dopo di ciò, difilato dalla cattedrale senza passar da nessuno, venne da noi e ci narrò ogni cosa, pianza amaramente e, tutta pentita, abbracciò Dunia e la scongiurò di perdonarle. Quella stessa mattina, senza appunto indugiare, dritto dritto da casa nostra, se ne andò per tutte le famiglie della città e dappertutto, con le espressioni più lusinghiere per Tunechka, versando lacrime, riabilitò la sua innocenza e la nobiltà dei suoi sentimenti e della sua condotta. Più ancora, a tutti mostrava e leggeva ad alta voce a lettera scritta di propria mano da Tunechka al signor Svidrigailov e ne lasciava persino far copie, il che, mi pare, era già troppo. In tal modo le toccò per alcuni giorni di seguito fare il giro di tutti in città, poiché certuni avevano cominciato ad offendersi che ad altri fosse stata usata una preferenza. In tal guisa si stabilirono dei turni, sicché in ciascuna famiglia, già la si aspettava e tutti sapevano che il tal giorno Marfa Petrovna sarebbe stata là a leggere quella lettera e per ciascuna lettura si riunivano da capo anche quelli che la lettera già avevano sentito più volte, nelle proprie case e da altri conoscenti, per turno. È mia opinione che ci siano state allora molte, moltissime cose superflue, ma tale è il carattere di Marfa Petrovna. Perlomeno ella ha riabilitato pienamente l'onore di Tunechka e tutta l'ignobiltà di questa faccenda ha marchiato come un'onta indelebile il marito suo. Quale sommo colpevole, e tanto che mi duele perfino di lui. Troppo severamente si è agito con quello stravagante. Quanto a Dunia, si cominciò subito a invitarla a dar lezioni in parecchie famiglie, ma lei rifiutò. In generale, poi, tutti presero d'un tratto a comportarsi verso di lei con particolare rispetto. Tutto ciò ha contribuito principalmente anche a quell'inaspettato caso a mercè il quale sta ora mutando, si può dire. Tutto è il nostro destino. Sappi, caro Rodia, che per Dunia si è fatta avanti un fidanzato e che lei ha già dato il suo consenso, del che mi ha fretto a informarti al più presto. E benché questa cosa si sia fatta anche senza il tuo consiglio, tu probabilmente non te ne avrai a male né con me né con la sorella. Poiché vedrai tu pure, dalla cosa stessa, che aspettare di ferire sino all'arrivo della tua risposta ci sarebbe stato impossibile. E poi, tu stesso non avresti potuto, da lontano, giudicare esattamente di tutto. Accadde dunque così. Egli è già consigliere di corte. Piotr Petrovic Luzin è lontano parente di Marfa Petrovna, che molto ha contribuito alla cosa. Cominciò dall'esprimere per mezzo di lei il desiderio di far conoscenza con noi. Fu accolto come si conveniva, preso il caffè e fin dal giorno dopo inviò una lettera in cui molto cortesemente enunciava la sua offerta e chiedeva una pronta e risolutiva risposta. È persona d'affari e molto occupata. E ora ha fretta ad andare a Petroburgo, sicché fa gran conto d'ogni minuto. Dapprima, si intende, fummo assai stupite, perché tutto ciò era avvenuto in modo troppo rapido e inaspettato. Noi due passammo insieme tutto quel giorno riflettendo ed esitando. È un uomo da poterci fare assegnamento. È ben provveduto. È impiegato in due uffici e possiede già un suo capitale. In verità ha ormai 45 anni. Ma è d'abbastanza gradevole aspetto e può ancora piacere alle donne in generale poi. È una persona sepposata e decorosa. Solo un po' arcigno e come altezzoso. Ma questo, forse, sembra soltanto così, a primo sguardo. Anzi, ti avverto, caro Rodio. Quando ti incontrerai con lui a Petroburgo, il che avverrà entro brevissimo tempo, non giudicarlo troppo in fretta e impulsivamente, com'è nel tuo carattere. Se a prima vista qualcosa in lui non ti andrà. Dico questo a ogni buon fine, sebbene sia sicura che ti farà una gradita impressione. E oltre a ciò, per conoscere qualsivoglia persona, occorre avvicinarla gradatamente e con cautela, per non cadere nell'errore e nel preconcetto, che poi è difficilissimo correggere e cancellare. E Piotr Petrovic, almeno per molti segni, è persona quanto mai rispettabile. Già nella prima sua visita ci dichiarò di essere un uomo positivo, ma di condividere in molte cose, come gli stesso si espresse, la convinzione delle nostre moderne generazioni, ed esser nemico di tutti i pregiudizi. E molte altre cose, gli disse, perché è alquanto, si direbbe, vanitoso e a gran piacere che si stia ad ascoltarlo, ma questo, già, quasi non è un difetto. Io, si intende, ci capì poco, ma Dunia mi spiegò che gli è un uomo, sia pure di non grande istruzione, ma intelligente, pare, buono. Tu conosci il carattere di tua sorella, Rodia? È una ragazza ferma, ragionevole, paziente e generosa, benché dal cuore impetuoso, il che ho studiato in lei molto bene. Certo, né da parte sua, né da parte di lui uno speciale amore, non c'è, ma Dunia, oltre che una ragazza intelligente, è nello stesso tempo anche un essere nobile come un angelo. E si farà un dovere di formare la felicità di un marito che, a sua volta, stia a darsi pensiero della felicità di lei. E di quest'ultima cosa non abbiamo, per il momento, grandi motivi di dubitare. Anche se la faccenda si è combinata, confessiamolo, un pochino alla svelta. Inoltre, egli è un uomo molto intelligente e calcolatore, certamente, vedrà egli stesso che la sua propria felicità coniugale sarà tanto più sicura quanto più Dunetschka sarà felice con lui. Che se poi ci fosse qualche disparità di carattere, qualche vecchia abitudine, fino anche a un certo dissenso nel modo di pensare, cosa che anche nei matrimoni più felici non si può evitare. A questo riguardo Dunetschka stessa mi ha detto che confida in sé, che non c'è da essere inquieti e che lei è capace di sopportare molte cose, a patto che i loro ulteriori rapporti siano onesti e giusti. L'esteriore dell'uomo, poi, è molto ingannevole. Egli, per esempio, ma anche a me parve sul principio, direi, brusco. Ma si sa. Questo può provenire precisamente dal fatto che è un uomo rettilineo. E senza dubbio è così. Per esempio, nella seconda visita, già dopo aver ricevuto il consenso, egli disse discorrendo che anche prima di conoscere Dunia aveva divisato di prendere una ragazza onesta, ma senza dote. Ogni modo, una che già avesse provato le strettezze. Perché, come gli spiegò, il marito non deve essere debitore di nulla a sua moglie. Ed è di gran lunga meglio che questa consideri il marito come suo benefattore. Aggiungerò che egli si espresse in modo alquanto più dolce e più gentile di come io ho scritto. Perché ho dimenticato la vera espressione, ma ricordo soltanto il pensiero. Inoltre egli disse, ciò niente affatto con premeditazione. Ma evidentemente lasciandoselo sfuggire nel calore della conversazione, tanto che poi cercò perfino di correggersi e di attenuare. Ma a me, tuttavia, ciò parve, direi, un po' crudo. E lo confidai poi a Dunia. Dunia, però, financo con dispetto, mi rispose che le parole non sono ancora dei fatti. Questo, certamente, è giusto. Prima di risolversi, Dunetschka non dormì tutta la notte e, supponendo che io già dormissi, si alzò dal letto e camminò l'intera nottata avanti e indietro per la camera. Infine si inginocchiò e pregò a lungo e con fervore davanti all'immagine. E al mattino mi dichiarò che si era risolta. Già ho accennato che Piotr Petrovic è ora diretto a Pietroburgo. Costì ha grandi affari e vuole aprire a Pietroburgo un pubblico studio di avvocato. Già da molto tempo si occupa del disbrigo di varie cause e eliti e l'altro giorno appena ha vinto una causa importante. A Pietroburgo poi ha necessità di venire anche perché ha costì un ragguardevole affare in Cassazione. In tal modo, un caro Rodia, anche a te, può essere utilissimo. In ogni cosa, anzi. Ed io e Dunia già abbiamo divisato che tu, fin da oggi stesso, potresti deliberatamente iniziare la tua futura carriera e considerare la tua sorte come ormai chiaramente delineata. Se questo si avverasse, sarebbe una tal fortuna da non poterla riguardare altrimenti che, come una grazia diretta fatta ci dà l'onnipotente. Dunia non sogna che questo. Noi già ci siamo arrischiate a dire qualche parola in proposito a Piotr Petrovic. Egli si espresse cautamente e disse che, certo, poiché non può fare a meno di un segretario, è meglio, si intende, pagare lo stipendio a un parente che a un estraneo, sempre che quello si dimostri idoneo al compito. Figuriamoci se tu non ti dimostreresti idoneo, ma espresse subito anche il dubbio che i tuoi studi universitari non ti lasciano il tempo per lavorare nel suo ufficio. Per quella volta, la cosa finì lì. Ma Dunia adesso non pensa a null'altro che a questo. Ma adesso, da alcuni giorni ormai, è addirittura in una specie di febbre e ha già architettato tutto un progetto nel senso che in avvenire tu potrai essere il sostituto e perfino il socio di Piotr Petrovic nei suoi affari processuali, tanto più che tu stesso stai seguendo i corsi della facoltà giuridica. Io, Rodia, sono pienamente d'accordo con lei e condivido tutti i suoi disegni e le sue speranze, vedendone la piena vero simiglianza. E nonostante il presente spiegabilissimo contegno elusivo di Piotr Petrovic, perché ancora non ti conosce, Dunia è fermamente convinta che otterrà ogni cosa col suo buon influsso sul futuro marito. E di questo è sicura. Noi, certo, ci siamo guardate bene dal lasciarci sfuggire con Piotr Petrovic alcunché di questi nostri ulteriori sogni e soprattutto che tu sarai il suo socio. Egli è uomo positivo e magari avrebbe accolto la cosa molto freddamente, poiché tutto questo gli sarebbe parso non altro che fantasticheria. Ed il pari né io né Dunia non abbiamo ancora detto con lui neppur mezza parola della nostra forte speranza che gli ci aiuti a provvederti di denaro finché sei all'università. Non l'abbiamo detto perché in primo luogo questo verrà inappresso anche da sé. Ed egli stesso di sicuro senza parole superflue lo proporrà. Vorrei vedere che rifittasse questa Dunetschka tanto più che tu a tua volta. Puoi diventare il suo braccio destro in ufficio e ricevere questo aiuto non a titolo di beneficio ma a titolo di stipendio da te meritato. Così vuol combinare le cose Dunetschka e io sono con lei pienamente d'accordo. In secondo luogo poi non l'abbiamo detto perché io vivamente desideravo metterti con lui nell'imminente vostro incontro su un piede di uguaglianza. Quando Dunia gli parlava di te con entusiasmo egli rispondeva che ogni persona ha bisogno innanzitutto esaminarla da sé e da vicino per giudicarla e che egli stesso si riservava fatta conoscenza con te di formarsi sul tuo conto una sua opinione. Sai mio inestimabile erodia a me pare per certe considerazioni che del resto non si riferiscono appunto a Piotr Petrovic ma così e per certi miei propri personali forse anche senili donneschi ghiribizi. A me pare che forse farò meglio se dopo il loro matrimonio me ne vivrò da me come già vivo adesso e non insieme con loro. Sono pienamente sicura che egli sarà così nobile e delicato da invitarmi spontaneamente e propormi di non separarmi più da mia figlia e se finora non l'ha detto è naturalmente perché così è inteso anche senza parole ma io rifiuterò. Ho notato nella vita più di una volta che le suocere non vanno molto a genio ai mariti e io non solo non voglio essere di benché minimo peso a chi che sia ma voglio io stessa essere pienamente libera. Fin quando non fosse che un mio pezzo di pane dei figli come te e Dunechka. Se è possibile mi stabilirò vicino a voi due perché non rodia. La cosa più piacevole l'ho riservata per la fine della lettera. Sappi dunque caro amico mio che forse prestissimo ci riuniremo tutti insieme di nuovo e ci abbraceremo tutti e tre dopo una separazione di quasi tre anni. È ormai stabilito con certezza che io e Dunea partiamo per Pietroburgo quando precisamente non so ma in ogni caso molto molto presto fino anche forse tra una settimana. Tutto dipende dalle disposizioni di Piotr Petrovic che appena si sarà dato uno sguardo attorno a Pietroburgo subito ce lo farà sapere. Egli vuole per certi suoi calcoli affrettare il più possibile la cerimonia delle nozze e perfino se sarà possibile celebrare il matrimonio già nella presente settimana grassa se non ci si riuscirà per la brevità del termine subito dopo il digiuno dell'assunzione. Con qual felicità io ti stringerò al mio cuore. Dunea è tutta agitata per la gioia dell'incontro con te una volta ha detto per Celia che già per questo solo sposerebbe Piotr Petrovic. Un angelo è. Adesso non aggiunge nulla per te. E mi ha incaricata solo di scriverti che ha bisogno di discorrere tanto con te. Tanto che ora la sua mano non può nemmeno dar piglio alla penna perché in poche righe non si scrive nulla ma ci si scombussola solo. Mi ha detto poi di abbracciarti forte e di trasmetterti un'infinità di baci. Ma nonostante che noi forse prestissimo ci incontreremo di persona io tuttavia a giorni ti manderò del denaro o quanto più potrò. Adesso che tutti hanno saputo che Dunea è sposa a Piotr Petrovic. Il mio credito è di colpo accresciuto e so di certo che a Fanassi Varnovic ora mi farà affido in conto della pensione. Anche fino a 75 rubli. Sicché ti invierò forse un 25 rubli o persin 30. Ti manderei anche di più ma temo per le nostre spese di viaggio. E sebbene Piotr Petrovic sia stato così buono ad assumersi una parte degli sborsi per la nostra venuta nella capitale. E precisamente si sia offerto egli stesso di far recapitare a suo conto il nostro bagaglio e il grosso baule in qualche modo per mezzo di conoscenti suoi di costi. E tuttavia noi dobbiamo tener conto anche dell'arrivo a Pietroburgo dove non è possibile comparire senza un grosso non fosse che per i primi giorni. Io del resto ho già calcolato tutto con Donetschka in modo preciso ed è risultato che il viaggio non costerà molto. Da noi alla ferrovia ci sono in tutto 90 verso e solo. E già ci siamo intese ad ogni buon fine con un contadinuccio e vetturale di nostra conoscenza. E di là io ed Unetschka ce la scarrozzeremo felicissimamente in terza classe. Cosicché io forse non 25 rubli ma 30 di sicuro mi ingegnerò di mandarteli. Ma basta. Ho riempito due fogli interi e non rimani più posto. È tutta la nostra storia. Beh, quanti mai avvenimenti si erano accumulati. E ora, mio inestimabile Rodia, ti abbraccio nell'attesa del nostro prossimo incontro e ti mando la mia materna benedizione. Amadunia, la sorella tua, Rodia. Amala come lei ama te. E sappi che lei ti ama senza limiti. Più di se stessa. Lei è un angelo. E tu, Rodia, sei tutto per noi. È tutta la speranza e tutta la fede nostra. Purché tu sia felice, anche noi saremo felici. Preghi Dio, Rodia, come un tempo. E credi nella bontà del creatore e redentore nostro. Io temo, in cuor mio, che l'incredulità oggi di moda abbia toccato anche te. Se è così, io prego per te. Ricorda, caro, come nella tua infanzia. Ancor vivo tuo padre. Balbettavi le tue preghiere sulle mie ginocchia. E come allora eravamo tutti felici. Addio, o meglio, arrivederci. Ti abbraccio stretto e ti bacio senza fine. Tua, fino alla tomba. Pulcheria Raskolnikov. Per quasi tutto il tempo della lettura, fin dall'inizio dello scritto, il viso di Raskolnikov era stato umido di lacrime. Ma quando egli finì era pallido, stravolto dallo spasmo. E un penoso, biglioso o cattivo sorriso, serpeggiava sulle sue labbra. Egli reclinò il capo sul suo smilzo e sudicio guanciale, pensò. Pensò a lungo. Forte gli batteva al cuore. E fortemente agitati erano i suoi pensieri. Infine si sentì soffocato e oppresso in quella stanzuccia gialla, somigliante a un armadio o a un baule. L'occhio e il pensiero chiedevano spazio. Egli afferrò il cappello e uscì. Questa volta, senza più temere di incontrare qualcuno sulla scala. Di ciò si era dimenticato. Si incamminò in direzione del Vasilevsky Ostrov, attraverso il prospect di Ivi. Come se vi si affrettasse per qualche faccenda. Ma al suo solito, andava senza badare alla strada, bisbigliando tra sé e perfino parlando ad alta voce con se stesso. Col che grandemente meravigliava i passanti. Molti lo pigliavano per un ubriaco.